Abbiamo preparato una serata in modo diverso, con coro, clarinetto, quartetto, clarinetto e pocosoristi. Sarebbe più o meno un'oretta. Spero che il partito... D'avanti. Maestro, mi hanno da dirigere. Iniziamo il concetto con l'ouverture, che è sempre parlando di apertura, che è tratto dalla carne di Bizet, la prescrizione per coro, tutte le prescrizioni che ha trovato il maestro León, grazie a lui, e la carne di Bizet-Overture. Grazie. 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 Grazie.